Amici e amiche di Attila Games, come sempre ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati finalmente, e di nuovo dopo un bel po' con Nioh, allora riprendiamoci, rimettiamo in cammino, nel nostro lunghissimo cammino di bestemmia, è un gioco difficilissimo, adesso riproviamo Ahia, ahia, per l'appunto come vi dicevo, per un attimino, ok così si parava benissimo, cioè in realtà malissimo, ci curiamo, e riprendiamo insomma dove ci eravamo lasciati la volta scorsa Eccoci qui, allora La faccenda si fa abbastanza tosta, eccone qua uno, attenzione, mancato Bisogna stare attenti eh, mi raccomando Aia, vai a cagare vai Eh infatti, moriremo, moriremo, non preoccupatevi, riprendiamo un po' dove c'eravamo lasciati insomma Questo gioco qua se non ci si gioca tanto Ehm, diventa difficile però Noi ci riproviamo, adesso l'importante è riprenderci il nostro Puttana merda Siamo già caduti, allora Recuperiamo la tomba Ma Che Guarda, è quello lassù Sa di sì Allora Salve No, non era lui Ok, perfetto Spendiamo una vita Scaldiamo Giù Ok Ah ecco, dovevo anche mirarlo Ok Perfetto Adesso Un po' di monetine No cazzo Vabbè Ho Ho armato Qui il potere Della luna Della terra Un po' di magia Ci aiuta comunque Gutta Nega Ok, ok Sono forti Sono forti Sono forti Ho recuperato ben 9000 punti amrita Quindi saliamo di qualche livello Diventiamo un po' più stronzetti Allora Io direi di aumentare Uno di corpo Ma se aumento uno di corpo Cosa ci dà? Ci dà vita Ci dà attacco Da arma da mischia 1 E arma a distanza 2 E va bene Energia in più Aumenta di un bel po' la vita E potremmo fare un altro livello Se aumentassi la forza Cosa aumenta? Ah, questo sarebbe interessante Stogliersi il cuore No, aggiungiamo la forza Che aumenta anche il ritmo key Prenderemo ai 14 Confermo Ok, ora siamo Anche più forti Grazie mille No, più che altro ragazzi Abbiamo messo Al sicuro un po' di amrita Che sapete qua Se Si sbaglia una volta Se non si riesce a recuperare La propria tomba Si perde tutto Ok Adesso ci caliamo Salve Adesso ce n'è uno qua così Questi riesco ad abbatterli Senza grossi problemi I problemi Arrivano Dagli orchi Aia Ci ha visto con qualcun altro Ah beh, quello lì Ok Qua Aia Facca proia Bisogna ricordarsi Di tenere Sempre D'occhio La vita Ok Andato anche questo Prendiamo tutta sta roba qua Adesso Prendiamo tutto Ci attrezziamo bene Vita Ancora E andiamo Se non Sbuca fuori Qualche altro nemico Da quell'orco lì Allora Il problema è che ce n'è lì Un altro Ok E questo è andato Anche un antidoto Bene Gli antidoti riescono ad attrezzarmeli Perché ho bisogno degli antidoti Anche perché Questi mi sparano il veleno Ah boh ma è antidoto quello lì Ottimo 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 Va bene Posto Allora eccolo qua Chiamiamo con noi Il nostro spirito guardiano Qua Forza Tieni che Mo' sencata Aia Aia Mamma mia casfaltata Via 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 Vita Bene La schivata E gli manca ben poco Aia Ci ha stortito quella schivata Però attenzione E vai a cagare Vai Allora Allora Questo ce l'abbiamo fatta Ok Poi Ok ragazzi Allora abbiamo ucciso l'orco Adesso proviamo Con il ciclope Vediamo un po' Come Si comporta C'è prima questo stronzo qua Sempre meglio andare piano La Ok Eccolo qua Va un po' studiato Nei movimenti Che fa Non viene No Torna indietro Fa malissimo Ok Salta però Va bene Forse E a noi questo ci piace Abbastanza Tira però i sassi Attenzione Ok Ora l'abbiamo fatto incazzare Ed è venuto fuori No però rimane sempre lì Via 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 L'abbiamo fregato È molto lento L'unica cosa E questo per noi È un grandissimo bene Via Abbiamo punto sul culo No no Bisogna Sempre andare lì Sul di dietro Aia Levati dai coglioni Vai Curati Che sta a fa' Lancia il sasso Via 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 Non mi manca tanta vita Eccolo qua Uh Se abbiamo fatto il primo colpo Bene Così Bene Bene Ora però qui bisogna Vedere cosa c'è qua dentro Allora qui non c'è niente Talismano Ora ci equipaggiamo un attimino Anche raga Copri il capo dell'arciere Equipaggiamento Allora Qui possiamo metterci qualcosa Per il resto Mi sembra Abbastanza Attrezzato Il ragazzo Qua Ok Quindi Ora cosa ci manca Vabbè c'è questo rincoglionito qui Ok Attenzione che però sto qui ci Avvelena Eccolo qua Ah no non c'è avvelena Stavolta ci ha tolto Solo un fottio di vita Ok Fuori dalle palle Ricordiamoci che abbiamo anche 10 bombe Bombette Cazzo c'è Oddio cos'è sto coso Che mi stanno seguì Oddio Ma hai visto neanche di queste Con permesso Salve C'è qualcuno No però c'è uno Yokoyama Vieni qua Appena risale Ok allora Questo sta apposto Allora adesso abbiamo quello là Questo qui Salve Ecco L'abbiamo fatto però bruciare Cosa mi piace Ne ne tiro un'altra Venga venga Bravissimo Questo qui Questi orchetti Hanno un'abilità Cioè sono abbastanza agili in realtà E fanno un male cane E mi trovo un po' in difficoltà Perché Vedete comunque Aia In un attimo Riescono a A girarsi Noi non abbiamo neanche gli zeer Quindi Siamo un po' Raffanculo Adesso siamo praticamente morti Porca miseria però Cioè praticamente Eccolo qua 999 ci ha tolto Cioè 999 No comment Ok ragazzi Rieccoci Stessa situazione di prima Altri 12.000 punti Amrita 12.004 Vediamo di quanti livelli Riesco a portare su Allora Se io aumento Questa volta Di 1 Il cuore Di 1 L'energia E di 1 Il corpo Altri 3 livelli Arriviamo al 17 Vai Ci manca ben poco Per salire di un altro livello Dire il vero Bene ragazzi Allora Ho ucciso i due orchi Che si aggiravano Da queste parti Il ciclope L'ho lasciato Ancora là Adesso ci sarebbe Questo Questo qua Proviamo a tirargli Una bomba Un'altra Attenzione Questo qui arriva Ed è grosso Però l'ho bruciato Bene così Vai con un'altra Ragazzi Sta morendo Bruciato Tira sassi Però l'ho bruciato Ce l'ho fatta Quindi questo in teoria Dovrebbe morire da solo Perché sta perdendo Un sacco di vita Bene così Basta perdere tempo E Dovrebbe bruciare Per i cazzi suoi Grande cosa Sta bruciando ancora No Non sta più bruciando Allora Mi tiro un'altra di questi Vai Eccolo qua Allora Questo è andato Ok Puttane Allora Lassù così C'è uno di quelli Che lancia roba Lancia merda Com'è che si raggiunge Quel posto Lassù Dove c'è Lancia merda Da qua Suppongo Allora Andiamo a fare un giro Ah Sfigato di merda Ottimo Lasciamolo Lasciamolo lì un attimo Occhio ne Ci ho visto Stavolta Stronzissimo Maledetto Bastarde Oh Riconosciamolo Riconosciamolo Ho distrutto Ho distrutto L'orco Che c'era qui Che girava Poi mi sono fatto Un giro Un po' Off camera Allora Non ci conviene Abbattere Gli altri Gli altri Yokai Perché non nascondono Niente Di importante Quindi questo Lo lasciamo là Lasciamo là Anche gli altri Due Che ci sono Lì L'unico Che proprio bisogna Asfaltare A tutti i costi E' questo qua Nella nebbia Che ci blocca La strada Ed è anche un po' Il più Il più impegnativo Fra tutti Perché è un po' Il più stronzo Un po' Il più Il più cattivello Però vediamo dai Ci siamo Attrezzati Vai Strontissimo Forza Dai che stai a fare Via Eccolo che arriva Attenzione Dai Su Porta 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 Attenzione Porta No Mannaggia Il crimine L'unico dove salta fuori Ah Era imboscato di là Ecco il cazzo Adesso Raga Detta proprio Un'amicizia Col cazzo Allora Dovremmo riuscire A battere questo Ok Il problema Il problema è che questo È anche abbastanza agile È saltato fuori dal buco Che Aia Ma ha preso pure Sto stronzo Di merda Non bisogna avere fretta Con questi Perché se no Ci fregano Allora Dai Forza Il problema È che ci insegue Ok L'ho fatto incazzare Dai Tira giù una Zampata delle tue Bravissimo Via Grande così Bene Via Aia Puttana Levate Levate Dalle palle Ok Ed è andato Anche questo Ora Tony l'amico Dov'è Tornato qua È tornato Vorrei prenderlo In testa Il problema Che Non ci riesco Eccolo qua Via Porca miseria È troppo lontano Forza Vedete col picciono Olè Aia Porca puttana Levati dalle palle Levati 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 Torni la vita Ok Noi due Dai Questo è più Incazzato Degli altri Puttana Questo è più È più rabbioso Dell'altro ciclo Quello che avevamo Fanno D'altra volta Scorsa Se vi ricordate Questo ci va Proprio È proprio Difficile colpirlo Dai Merda Bene così Aia Non morirmi È Dai che manca poco Se poi riusciamo Ad abbattere Questo Dovremmo bene o male Essere salvi Eh Manca C'è anche Il lanciacacco L'era giù Dai che son qua Andiamo di qui Allora Bello lo splash E siamo Eh vai Perfetto Ce l'abbiamo fatta Grande così Grande così Anche due lisir Perfetto Detto ciò Potremmo andare di qua Allora Medicina Perfetto Perfetto Sento il rumore Di pipistrelli Qua Appunto Non c'è niente Ci sarà un altare Da qualche parte Porca miseria Sono bello Anper tutto Ok Questi li lasciamo Di qua Expiamo Ok Ok Allora Ragazzi Qui mi sa Tanto di boss Mi sa Tanto Di boss E poiché C'ho Quasi 13.000 Amrita Io Tornerei indietro Livello E poi E poi Torno di qua Anche perché Comunque Questo pezzo Possiamo farlo Correndo Quindi Io Tornerei indietro Livelliamo Sereni E poi Andremo Oh Porca la miseria Non capivo Infatti Dove Fossi Dicevo Strano Quindi vi dicevo Livelliamo E Poi Sereni Andremo Verso Il boss Però ragazzi Questo magari Lo vedremo Nei prossimi Episodi Quindi Lasciate un like E condividete Se il video Vi è piaciuto Se vi sta Garbando la serie Di Nio Andatevi indietro A riprendervi I vecchi episodi Perché da un bel po Che non lo riportavo Vi ricordo La mia pagina Facebook E vi lascio Allora in attesa Del prossimo Bisoglio Dove Molto probabilmente Andremo ad affrontare Il Il presunto Boss Io come sempre ragazzi Ci vediamo Nei prossimi episodi Un cordiale saluto Da Attila Games